eccoci qui Laura per la presentazione di questo gioco di prestigio guarda abbiamo qui il nostro mazzo di carte che andiamo a mescolare in questo modo e facciamo poi un taglio per concludere adesso ti chiedo di scegliere due carte due carte che più ti attiro e più ti attraggono a tuo piacimento ok? ok ti chiedo di guardarle e farle vedere alla telecamera mentre io mi giro fatto? si perfetto ora ne prendiamo una delle due e le andiamo a disperdere così all'interno del mazzo dobbiamo fare un miscudio a volte la carta sia dispersa completamente ora la seconda ti chiedo di appoggiarla qui e guarda andiamo a mescolare così in modo tale che anche la seconda carta sia completamente dispersa all'interno del mazzo concludiamo il tutto facendo un ultimo miscuglio ora converrai che le tue carte sono completamente smarrite all'interno del nostro mazzo giusto? però stai vedere mi basta soltanto fare una piccola operazione che si chiama ascensore ovvero questa cosa qui e lo so che non ci crederai ma le carte salgono non salgono verso l'alto ora la tua carta una delle tue carte era il gioco di cuori si quindi il primo gioco di cuori è salito e lo lasciamo qui in evidenza un altro ascensore e vuol dirmi qual era la tua seconda carta te lo ricordi? il 6 di cuori il 6 di cuori anche il 6 di cuori è salito in cima e anche se lo lasciamo qui davanti ok? però la cosa difficile non è far salire le carte tramite l'ascensore la cosa più difficile è farle salire senza l'ascensore bravo